Tutto di fretta, tutto di fretta perché non va mai un cazzo, sono andato a correre, sono corso a prendere l'acqua, ma dovrebbe funzionare tutto adesso, salve, 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 porco Giuda, cioè non ci manca mai, ci manca solo il caldo e che non va internet, comunque ci sono 23 gradi qua, che non è vero mai perché qua dentro ce ne saranno almeno 40. Come state, come state, come va questa domenica di fuoco e di fiamme? Siete pronti? Mancano 4 giorni, 4 giorni e mezzo a Zelda, siete pronti? Siete pronti? Io oggi l'ho scaricato, come avete visto su Telegram, chi c'è su Telegram? Vi ricordo che è solo per i sub, ma non c'è solo Zelda settimana prossima che esce venerdì, settimana prossima ragazzi c'è una settimana coi fiocchi perché domani c'è Garten of Bambano, ovviamente, che ci avete detto tutti che è uscito, ma mercoledì c'è una live evento con Andrea dell'88 o del 1988 o 89, non mi ricordo, su Demonologist, quindi siateci perché dove la vedete una live del genere? Dove la vedete? Mercoledì ovviamente, mercoledì giocheremo con lui a Demonologist e ci sarà da ridere, cercheremo magari di fare anche la mappa nuova se riusciamo a sbloccarla, ma porco Giuda bisogna farmare in quel caso di gioco, cazzo. Venerdì mi piallo davanti al Game Life finché non apre, ma esiste ancora Game Life, porco Giuda? Esiste ancora? Non pensavo di essere chiuso battenti, vabbè che magari hanno chiuso solo pochi posti, ma qua a Milano sono spariti tutti nel giro di una notte. No, non l'ho messo silenzioso, non l'ho messo silenzioso, adesso lo metto. Comunque, le voci di corridoio ci dicono che non siete pronti a Zelda, non siamo pronti, manco non siete, non siamo pronti a Zelda. Però ci voleva un gioco così ragazzi, ci voleva perché questo 2023 ci è veramente partito un po' maluccio, un po' maluccio. Mancano proprio giochi, giochi... Perché Hogwarts Legacy, parliamone, un po' il tripla di inizio anno, per carità le vendite mi danno torto, però un po' deluso almeno, a me ha deluso Hogwarts Legacy. Non è quel grande capolavoro che si ci aspetta, perché ti ricordo che l'anno scorso, a febbraio, è uscito il The Ring, che nonostante i nostri dissing rimane comunque un capolavoro del suo genere. Adesso a maggio, fra pochi giorni esce Zelda e a fine giugno esce Final Fantasy, quindi in realtà sono due potenziali capolavori che ci aspettano. Però c'è bisogno, c'è bisogno di giochi pregni perché ci mancano, ma è da Ragnarok che non si gioca qualcosa di potente, porco Giuda. Ma oggi sapete chi torna, no? Oggi torna Andreina, nonostante i problemi di linea e di caldo c'è Andreina, ma devo fare una roba diversa. Visto che c'è una mappa anche interattiva, almeno io ce l'ho sul telefono, vediamo se ce l'ho ancora l'app, se no la scarico al volo, così mentre gioco me la guardo. Che si chiama, ve minchè? Map Zomboid si chiama. Che si vede, si vede, si vede, vedete? La mappa del gioco, con tutti i punti di interesse. Ma io prima di, prima di usarla, volevo aprirla qui a tutto schermo per scegliere insieme a voi dove andare a lutare. Così da, visto che è una nuova stagione, così da introdurre anche una nuova meccanica. Una nuova meccanica, ma prima di introdurre una nuova meccanica, introduciamone anche di vecchie, perché non ho ancora fatto il pronostico. Che dà, è da tanto che non si fanno. Prossimo a morire? No, no, no. Bene, ho chiuso la chat, non vedo più la chat, vabbè fa niente, la metto dopo. Allora, chat, qui. Aspetta che lo faccio dalla dashboard, mamma mia, quando si decideranno a integrarlo, sto cacchio di prediction, ok. Dove è Andreina? Chi muore per primo, chi muore per primo, prossimo a morire, vittoria, lo cattura. No, aspetta. Allora. Andreina. Vive. Muore. Vi do due minuti per votare, intanto in questi due minuti vedo se riesco a far comparire la mappa. Là. A posto. Andreina stai diventando come Sabacco, hai visto. Porco Giuda. Allora, vi giuro che, vi giuro che dal vivo non si nota così tanto, ma il problema è che qui, essendoci le luci, i fari, ovviamente, passando più luce in mezzo ai capelli si vedono di più le chiazze, però Porco Giuda effettivamente, effettivamente sto perdendo a vista, a vista d'occhio, a vista d'occhio, ragazzi. Allora, fatemi aprire internet qua un attimo, per vedere se c'è la mappa, a tutto schermo, così decidiamo insieme, se no, se no, se non c'è, allora, map, zomboid, online. Eccola qui. Ora, sposto un attimo la chat qui. Qui ci vede, yes. Eccola qui, ragazzi. Possiamo zoomare, i punti blu sono i punti interesse. Allora, noi se non sbaglio siamo al Moldro, giusto? Moldro, quindi dobbiamo trovare la tangenziale, che penso sia questa, la nostra tangenziale. Yes. Allora, dovremmo un attimo capire dove siamo, guardate. Isolate da house, questa qua è casa nostra, casa di Andreina, eh sì, perché noi ci siamo, ci siamo, noi parcheggiamo qui. E questa è la casa isolata. Infatti vedete che è un punto di interesse. Una via, una via per andare, per entrare e uscire, è molto, sì, è molto, è molto efficiente, effettivamente, esattamente le cose che abbiamo detto. Nei dintorni cos'è che abbiamo? La stazione dei treni che abbiamo trovato nei primi episodi, qua. La fattoria, qui. Il cabin, minchia, una casa in mezzo, questa casetta in mezzo ai boschi non sarebbe neanche male. Ma qua invece cos'è che abbiamo? Ah, le roulotte. Cazzo, adesso mi viene voglia di guardare dappertutto. Allora, quindi l'autorità tangenziale è qui. Qua abbiamo il nostro fallimento, dov'è il nostro fallimento? Allora, isolate da house, qua dovrebbe esserci il magazzino che è qui. No, storage building, il magazzino è qui. Il nostro fallimento, ragazzi. Infatti di qua poi non c'è più niente. Si va verso, si va verso la città, della città enorme che è questa, ragazzi. Guardate qua. La metropoli, la metropoli. Che non sarebbe male. Però io mi ricordo che tangenziale, vedete, qui c'è lo svincolo, lo svincolo che abbiamo fatto l'altra volta. E se non sbaglio, la base militare era qui. Allora, qui c'è Warhouse, in che quartiere siamo? Merch Ridge, area Merch Ridge, Rosewood, che abbiamo cambiato. Qua c'è la prigione, infatti a Rosewood. Ma la cosa militare dove minchia è? Qua? Sì, è questo. È questa, ragazzi, la più. Military Bage. Che è praticamente a nord di Rosewood. Noi dovremmo arrivare a Rosewood, entrare in città, andare verso est. Poi una volta giunti qui, una volta giunti qui, invece di andare per la prigione dovremmo andare di qua. Che c'è il benzinaio, poi dal benzinaio dobbiamo salire, salire, salire a nord. Continuando a salire troveremo una strada sterrata. La strada sterrata, poi bisognerà andare a sinistra e arriviamo alla base militare. Ma! Ma! E se invece di andare alla base militare decidiamo di prendere la tangenziale, farcela tutta, 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 verso il fiume, arrivare a Dixie, che penso che siano i suborghi, i suborghi della città. A Dixie comunque c'è un po' di roba da lutare. Poi una volta arrivati a Dixie, percorrere il ponte e arrivare una volta per tutte alla città, basta seguirla tangenziale, ragazzi. Non ce la faremo tutta oggi, ma potrebbe essere... Allora, le due cose sono due. O tangenziale, scusate, o base militare o metropoli. Poi qua, vedete, qua c'è il Central Park alla fine, cioè è pieno qua, sarebbe pieno di roba. Però ovviamente essendo pieno di roba è anche pieno di zombie, perché è una città. Boxing gym, dinner, food market, pieno di benzina, small police station, public school. Qua qui sono le stalle. In città non so cosa ci possa essere di utile effettivamente, però potremmo andare... Effettivamente sono tre i posti. Carcere, base militare o città crossa. Quindi io mi rimetto qua. L'happa, ve l'ho fatta vedere. Fate la vostra scelta, ragazzi. Intanto vi leggo. Carcere. Sento che si diventa quella voce metallica, e non so cos'è, ragazzi. Sto il microfono, è internet, è un po'... C'è un po' di settaggi da fare che non ho mai tempo di fare, sinceramente. Anche l'altra volta ho la voce metallica. Vedo un attimo di risolvere, perché forse c'è il gain un po' troppo alto. Aspetta, mettiamola l'ora. Provo a metterla a 80. Ditemi così se è meno metallica. Io sento bene, va bene, grazie a Daxin. Io non so, sinceramente, dove sia meglio andare. Sono posti caldi, con tanti zombie. Uno va e l'altro, ragazzi. Uno potrebbe farci morire. Allora, mettete in conto che se decidete la città non la raggiungeremo oggi. Il carcere e la base militare forse sì. Quindi, mentre voi decidete, intanto apro il gioco. Cos'almeno è un po' di... Se no... Allora, Stam. Zombie Hot, esatto. Zombie Hot. La base, dai. Sì, sì. Allora, vediamo. Vediamo più che altro. Devo anche capire se la macchina regge, perché la macchina è rotta. Non so se vi ricordate. Bisogna anche vedere quello. Se riusciamo ad arrivare e anche a tornare, in teoria. Allora. Però il zombie, dove minchia è? Demonologist. Eccolo qua. Prison Boy. La. PC. C'è anche il taxi, no? Sì, però... La benzina è sempre un problema. Tutto a culo. Non è che è tutto a culo. Dobbiamo scegliere bene. Bisogna scegliere bene. Allora. Prendo la mappa. Perché, giustamente, dobbiamo avere la mappa purata di mano. Tutto città purata di mano. Che è uguale a quello che c'avevamo là. Cazzo, non ho messo la telecamera tonda. Aspettate. Porco Giuda. Fastidio. Fermi tutti. Facecam. Filtri. Là. Fatemi vedere se vanno gli audi. Sassassà. Sì, ok. Posto. A posto. Dovrei mettermi le cuffie, per questo non sento l'audio. La chat. Ale. Vai, la freccia. Qua. A posto. Siamo tornati. Siamo tornati. Allora, carica. Dove Andreina? Qua. Vai. Fai. Elimina. Gioca al buio, Andreina. Allora, io c'ho la mappa, quindi noi siamo a Mulderu, qua sulla Tangent Shale. E niente, sì, dobbiamo andare comunque al raccordo, dobbiamo arrivare al raccordo se dovessimo mai andare al carcere comunque Rosewood. Quindi scegliere, bisogna scegliere qua, Rosewood o Città Grossa, carcere o base militare, vabbè, Rosewood o Città Grossa, che sono due cose diverse. Scegliete, scegliete, su. Base. Rosewood, sondaggio. Eh, non ci sono i sondaggi a schermo nelle mie live, perché mi dimentico sempre di metterli. Non ci sono, ragazzi. Città Grossa, più grossa. Rosewood, Rosewood, vabbè, sta vincendo Rosewood. Rosewood e base sono la stessa cosa, eh. C'è lì. Che poi da Rosewood possiamo andare sia al carcere che alla base. Ora, però. È mattina, è mattina. Quindi, io con Andreina, visto che è mattina, direi di... Minchia, il lavello che non si clicca, ok. Bevi. L'acqua ancora non l'ho staccata, tra l'altro. La volta scorsa l'avevamo piantato, tra l'altro. C'erano altri boccioni da recuperare, ma quelli per ora avvenne così. E direi di mangiare qualcosina. Abbiamo fatto pure il test del frigo la volta scorsa. Allora, mangiamo una barretta di cereali. C'è ancora un botto di roba però addosso che dovrei mettere via. 10, 11, paletta, semi da giardiniere. Allora, tutti questi semi li possiamo mettere via. Anche la paletta. Il verme... Posso mangiare? Cosa fa se lo mangio? Proteine? No, mi aumenta la tristezza. Quindi il verme lo si butta a terra. Lascia la torcia. Straccio sporco che vorrei lavare. La mano destra è band-aid con la mia ustione di quinto grado. Vediamo se c'è ancora. Esci. Esci. Quindi direi di mettere i cerotti. E all'ustione ci vuole un botto a guarire ovviamente. Pentola con acqua. Mangiato? Ho mangiato. Direi di prendere... Cosa cosa posso usarla? Prendi uno un attimo. Vedere se posso riparare la mia bellissima toga. La mia bellissima mazza. Nostro adesivo. Siamo al massimo. Al massimo. Falcio da giardino. Vabbè abbiamo tutto. Eravamo messi bene in realtà. Molto bene. Qua le nostre pentole. Immagino i nostri secchi. Più che pentole stiano raccogliendo l'acqua. Qui il terreno ci sta irrorando ad acqua. Io direi di andare ragazzi. Di andare perché comunque è mattina. Quindi di andare verso Rosewood. In realtà è facile arrivarci. Non ci serve la mappa per ora. Per arrivare al carcere ci servirà la mappa. Carcere o base che sia. Però per ora arriviamo a Rosewood. Qui abbiamo tutto. Benzina. Ok. Dovrei portarmi dietro un po' di cibo. Però in realtà. Penso di avercene un po' dietro. Che è sto lag? C'è il finestrino giù? Ok. Tiriamolo su. Apri finestra? No. Ok. Va bene così. Vai. Andiamo. Let's go. Siamo tornati. È tornata Andreina. Allora. Visto che Andreino... Andreino. Andreina è dea della retro. Direi di farcela in retro per la prima parte. E poi si torna. È ora di dare un po' di pepe a sta situazione. Sarebbe bello farci la base dentro il carcere. Però da soli è un po' un delirio da... Da ripulire. Se siete in 5, in 4 e state giocando online come base, il carcere non è male. Però per ora arriviamo a Rosewood. Poi decidiamo se andare alla base o al carcere. O a tutte e due. Ma la benza c'è. Il problema sarà il motore. Spero regga. Eccoci. Tangenziale. Non so se... Non so se qualcuno di voi, che mi ricordo benissimo chi, quando eravamo lì all'evento, si ricorda la citazione che ho fatto alla tangenziale di Pre-Zomboid. Che è la Salerno-Gio-Calabria. L'esperienza è la stessa. Gente che attraversa. Tu che devi schivare. Credo, almeno da come... Da come la raccontano. Mi scomparsa di nuovo la chat. Porco Giuda. Porco Giuda. Streamlabs. Aspetta. Scusate. Che se no veramente non vi leggo. Ok. Ora vi leggo. Io c'ero. Eh sì. Comunque a parte... A parte io che sono stato male per due giorni. È stato comunque un bel evento. Molto, molto meno incasinato di quelli che ci aspettavamo. È stato molto, molto più bello e intimo della Games Week. Perché la Games Week è stata veramente invivibile. Abbiamo parlato tipo 30 secondi con ognuno di voi. Almeno qua è stato un po' più intimo. Ci siamo seduti al tavolo con voi. Abbiamo parlato una bella mezz'ora. Anche una bella oretta. Fuori, quando il locale ha chiuso, abbiamo parlato. Avete visto Itil. È stato comunque incredibile. Almeno per quanto mi riguarda. Spero, speriamo di poterne fare degli altri. Purtroppo devono essere robe organizzate, ragazzi. Non si possono fare i raduni come negli anni 90, come dite voi. Perché ci arrestano se lo facciamo. C'è il decreto rave. C'è il decreto rave che più di 50 persone o comunque un gruppo troppo ampio di persone in un luogo pubblico può essere arrestato per il decreto rave, quindi. Rido di brutto. Anche io rido di brutto. Con cui sto guidando piano perché ho paura di sfondare la macchina, ragazzi. Potrei accelerare un po' di più, eh. Però Non mi ricordo come si fanno i fari, quindi. Li faccio così. Li accendo manualmente così. Ah, è vero, potevo farlo dal cruscotto. C'è un cretino. Minchia, è sempre pieno qua di zombie. Abbiamo la tangenziale, ma è normale. Anche se l'abbiamo ripulita la scorsa volta. Ricordate che l'abbiamo ripulita un po'. La scorsa volta ovviamente è un mese fa, però... Let's go. È un altro cazzo di svincolo. Allora, abbiamo... Più o meno superato i... Tutti i negozi... Minchia, ma era così lunga. Non mi ricordo così lunga. Vabbè. Abbiamo superato comunque la zona calda, diciamo. Ci sono sempre meno zombie. Vado più piano perché adesso ci saranno le carcasse d'auto. Con calma. Piano piano. Porco Giuda che vi è getto che ci stiamo facendo. Ci siamo. Me lo sento. Ci sono le macchine adesso. Ci sono le macchine. Fammi spegnere i fanali. Chi sono alla batteria? Va a Troie. Ecco le... Ah! Ah, allora. Adesso con calma. Dobbiamo andare di là, quindi direi. Grazie a chiunque tu scia. Sono un attimo... In un momento... Forse ho sbagliato. Forse è meglio far così, guardate. È meglio andare direttamente di là. Nell'erba di là. Con calma. Stando attenti a non sfondare la macchina che è già sfondata di suo. Ci passo qui? Ti prego? Yes. Ok. Verso nuove avventure. Via! Ma davanti macchinuccio ci sono qui però, eh? Non tanto per guidarle ma un po' di benzina comunque ci potrebbe far comodo. Ora. Stiamo andando verso Rooswood. Quindi direi di beccare l'uscita giusta. Adesso controllo qual è. Mappa. Controllo qual è, almeno non mi sbaglio. Allora, svincolo. È la seconda uscita. Che non è quella sterrata. Quindi la seconda uscita ed è un'uscita di cemento. No, la terza uscita. Terza uscita di cemento. Ok. Terza uscita sulla sinistra. Cheater. No, non sono cheater ragazzi. È che devo dare un po' di pepe a sta situa, no? Che poi in realtà ci sono i cartelli, eh? Non è che sto citando. Ci sono i cartelli però... Poi tanto tranquilli che sto citando, cioè non è che sto citando, sto citando per andare nei cazzi. Quindi in realtà sto aumentando la difficoltà perché in quel posto lì ci sarà un casino. Soprattutto al carcere. Comunque non voglio perdermi. Qua ci sono ancora i cadaveri dell'altra volta, incredibile. Allora, la prima uscita non l'ho ancora vista, devo essere sincero. Però l'è lunga qui, l'è lunga. Deve farci quasi mezza mappa. Allora, per ora manco non c'è neanche la prima uscita. Quindi eccola, forse è qua adesso la prima uscita. Ovviamente bisogna guardare solo quelle sulla sinistra. Vi immaginate ci molla la macchina qui in mezzo al nulla? Dovevamo fare rifarcelo a piedi. Rifarcelo a piedi verso casa. Allora, in molte partite mi è successo. che dovremmo la fare a piedi verso casa. Non è male in realtà. Mette ancora un po' più di pepe alla situa. Perché alla fine comunque si può fare tutto in sto gioco. Se ci credete veramente. Non sto più guardando le uscite, ragazzi. Salve, salve chi sta arrivando adesso. Attenzione, forse ci siamo. Allora, una. Forse questa è la prima. Una che era sterrata. Adesso subito, subito dopo c'è la seconda. Ok, ci siamo. Qua c'è il cartello di stare attenti ai autostoppisti, i chikers, che possono essere gente che vasa. Ok. Quindi appunto ci avvisa che vicino c'è il carcere. La lore. Eh, comunque, è abbastanza semplice. La prima strada asfaltè, vedete? Rosewood, ok. Rosewood, la prima uscita. Che poi anche se vado sulla seconda sterrata, finisco a Rosewood, eh. Tipo anche se vado di qua, finisco bene o male a Rosewood. Però sinceramente vorrei andare a Rosewood centro. Quindi andiamo alla prossima. Non so se era quella. Vabbè, non è. Eccola qua. Penso sia Rosewood centrale. Allora, io adesso devo andare verso nord per arrivare al carcere. Quindi qua c'è il gas. Che abbiamo visto prima. Che ci porta anche verso il carcere. Però io sinceramente dovrei andare verso nord, quindi. Che è successo? Il motore. Ok. Si sta iniziando a spegnere la macchina. Orco Giuda, non può, non può abbandonarci qui la macchina. Dopo controlleremo lo stato del motore. Allora. Spero di non aver mancato l'uscita, perché più che altro vorrei... Per me devo uscire di là, ragazzi. Devo continuare di là, sì. È l'unica. Poi dopo probabilmente si ricollogherà la città. Perché ho paura di mancarlo come l'altra volta. Che siamo finiti da tutta altra parte. Che era sempre lo stesso svincolo. No, no, non vado di qua. Me la faccio dall'alto così arrivo più centrale. E poi alla fine siamo finiti da tutta altra parte. Usciamo lì. L'uscita è quella. C'è un poliziotto. Minchia è pieno, guardate. Mamma mia, quanti, quanti. Ordina. Ordior. Che poi scusate, perché se io faccio un attimo... Se io guardo un attimo sto incrucio qui... Per capire... Eh sì, devo andare di qua, perché vedete qua c'è il... Gas station, gas repair, pizza restaurant e spiffo. Eh sì, e si ricollega alla città. Poi dopo una volta arrivato completamente di là, c'è la prigione. Quindi sì, è di qua ragazzi, è di qua. Stavo sbagliando di nuovo. Vedete perché guardo le mappe? Piano. Quindi qua c'è dove ci dovrebbe essere... Ecco, pizza, pizza, pizza che avevo detto prima. Poi più avanti... Poi più avanti c'è spiffo. Scusate, m'ho digerito. Oh, il furgone dello spiffo. Intenzione, spiffo sembra un nome per chiamare la droga. Mi è scappato quel rutto, non volevo farlo così forte. Io dovrei anche fermarmi perché ha pure fame la cretina. Io mi fermo un attimo qui in disparte, cercando di non attirare troppa... Troppi zombie. Allora, biv. E mangio. Cicarettina, vabbè. Apro le caramelle così mi prendo anche un po' di ciuccheri. Scatola di caramelle, tecnica di benzina vuota che ci serve appunto per... Allora, le caramelle due minchie le ho messe qui. Yes. Scatola di caramelle. Apri il pacchetto di caramelle. Mangia. Mangiamo anche un lecca-lecca, vai. Un po' di zucco, bisogna di zuccheri qua. Zuccheri, zuccheri. Ha fumato la signorina, yes. Allora. Siamo in città, quindi io direi che dobbiamo continuare di qua. Da questo lato. Adesso siamo... Stanchi, però io direi di continuare finché c'è luce. Perché sono anche le due di pomeriggio. Allora, qui sarà tutto scaduto il cibo. A meno che non ci sia qualcosa di conservato, ma... Allora, benvenuti a Rosewood. Questo qua è una banca, o comunque un centro commerciale, una hotel. Eh, non sarebbe male. Qua, qua penso sia un altro. Fast food. Fashionable. Ah, fashionable. Un negozio di vestiti. Questo cos'è? Non leggo. Book naked. Negozio di libri. Medical, eh. Questo qua ho del... Delle medicine non sarebbe male. Quasi quasi, guarda. Mmm. Però no, in realtà abbiamo un obiettivo. Che non è trovare le medicine. Che in realtà ce l'abbiamo. Però mi piacerebbe vedere... Se c'è una pomata contro le ustioni. Senti, allora io faccio il giro. Molo la macchina e me la faccio a piedi. Perché qua ce ne sono troppi. Ecco, infatti. Qua ce ne sono troppi. E dietro peggio. Uh, il camioncino. Attenzione. Potremmo cambiare veicolo. Vado. È tornata la retromarcia migliore d'Italia, qua. Guarda che ti passo sopra. Ok. Eh, porco Giuda. Ale. Quello è vivo. Quello è vivo. Il signore è vivo. Fatto d'acciaio il signore. Ok. Ok. Ci siamo, ci siamo. Eh, è invitante il camioncino, eh. È molto invitante. Vediamo se ci può. È chiuso. È chiuso. È chiuso pure il baule, ma... Magari. Le chiavi sono intorno. Non lo so. Però concentriamoci su quello che dobbiamo fare. Qua c'è il medical. Con lo zombie lì è in una posizione bruttissima. Venga. Bravo, mi ha visto. Venga. Mamma mia, che lisci incredibili. Si rialce. Bravo. I lisci incredibili di Andreina qui. Allora... Eh, minchia, 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 minchia. Ovviamente è chiuso, ma... Devo far veloce. Allora, qua niente, ok. Chiuso. Comunque è un ambulatorio medico, è questo. Qui. Cotone, betabloccanti, fasciature. Il cotone non sarebbe neanche male. Comunque prendo antidepressivi, anche, non ci sa mai. I betabloccanti sono quelli per ridurre il panico. Agoda sutura, forbici, bisturi. Minchia, l'agoda sutura che mettiamo qua, nel marsupio, qua. Il bisturi, lo mettiamo anche questo qua per fare le operazioni, anche se in solitaria non serve. Se vi spese... Se giocate in cooperativa potete farvi il personaggio medico e potete anche fare operare. Levare, tipo, le robe col bisturi. Allora, sonniferi antidolorifici, sì, sonniferi non ci servono. Gli antidepressivi ce li abbiamo. Non riempiamoci inutilmente. Il cotone. Vai, tanto non pesa un cazzo. Nel cestino non c'è niente. Dai, dammi una pomata per le ustioni. Sigarette, grande. Sigarette le prendiamo sempre. Ormai abbiamo la scorta vita di sigarette. Non le finiremo mai. Non ci vede una minchia, eh. Ehi. Allora, qui, cappellino medico, ago da sutura. Un altro ago, che male non fa. Mentre che ci apriamo. Possiamo comunque ricucirci. Qua non c'è niente. Qui nemmeno. Da sta parte che non ho guardato. Qui. Un'altra stanza. Antidolorifici, ottimi. Dammi sta pomade per le ustioni. Dammela. Cotone. Antidolorifici, niente. Una scorta infinita di antidolorifici. Topomorto, bene. Armadio. Antibiotici, ottimo. Questi sono pure rari gli antibiotici. In caso dovessimo prendere un'infezione. Qui c'è il niente. Non cazzo, non c'è. Qui penso sia l'uscita. No, un altro. Antidolorifici, betabloccanti. Allora, antidolorifici si prendono. Betabloccanti si prendono. Antidolorifici ancora. Vai con gli antibiotici. Betabloccanti ce li ho già. Porco giuda. Tra l'altro sto morendo di sonno. Bottiglia vuota la prendiamo. Adesso la riempio. Non è... Posso dormire qui, secondo voi? Sul lettino, sì. Non è un brutto posto per dormire, in realtà. Quindi io dormirei qui e l'indomani mi sveglio. Intanto la porta è chiusa. La bottiglia d'acqua vuota, vai. Là. Laviamoci. Vai, lavati, Andrei, vai. Sciù. Ok. Il cibo scarseggia, ma... Io più che altro la benda qua non serve più a niente. Comunque l'ustione ce l'ho. Cioè, se me la tengo aperta. Ok, no, ok. Guarite l'ustione. A posto. Non mi serve più la pomata. Tutto sto casino. E non mi serve. Però penso mi sia rimasta la cicatrice. Poi quando siamo alla luce la vediamo. Forse si vede già adesso. Però è un po' buio. Se volevo i guanti. Riponi. Si vede la cicatrice. Sì, guardate. Cicatrice dell'ustione. Bellissima. Bellissima. Eh, iniziamo a avere i drammi. I drammi addosso. Non ho mai avuto un personaggio mutilato. Cioè, non sono mai arrivato al punto di avere un morso e tagliarmi un braccio. Sarebbe figo avere Andrina mutilata. Poi potrò usare solo armi a una mano, però... Vai, dormiamo. Aspetta, prima metto la sveglia, va. Dov'è? Imposto a sveglia. Alle sei. Vai. Ma anche se non sarebbe... Non è una buona idea averla sveglia con gli zombie qua fuori, però vabbè. Là. Là, spegniamo subito. Vai, dormi, Andrei. Vai, vai. Poi appena ci svegliamo mangiamo qualcosina. Caramelle. Il culo c'abbiamo. Troppo, sono un cretino. Il cibo l'ho lasciato a casa. Vabbè, 5.20. 5.20. Io direi un attimo di... Non rischiare. Di non rischiare. Impugna secondario. Andiamo col falcetto. E l'ho? Allora, qua ci siamo già andati. Qui ci siamo già andati. Qui no. Qua l'uscita, bene. Perfetto. Completamente a caso. Qui penso c'è l'altro negozio. Quelle minchia sono. Uh. Uh. Qua forse c'era del cibo. Bottiglia d'acqua. Marcio arancia. Rockstar. La bottiglia d'acqua la prendo come sempre. E la rockstar la bevo. L'arancia marcia direi di no. Facciamo prendere fuoco anche qui. Mettendo la lattina nel... Nel... Coso. Qua beviamo. Tubo di metallo. C'era lì. Ah. Gomma. No, niente. Usciamo. Usciamo, usciamo. Quello che potevamo fare abbiamo fatto qui. Andiamo verso... Di là. Cazzo, però voglio la chiave di... La chiave di questo furgoncino. Minchia. Sai quanto... Quanto spazio c'ha sta roba. Forse se andiamo al... Qua. In questo posto qui. Probabilmente troveremo una chiave. Che apre tutti questi tipi di furgone. Bisogna anche considerare la lore dei veicoli. Quando si cerca le chiavi. Se troviamo un posto col titolo McCoy. Lodging. Che penso sia un... Un campo per tagliare la legna. Che lodging vuol dire quello. Probabilmente ci sarà... Dentro il... La chiave per aprire... Quei tipi di furgoni. Ora, alleviamoci un attimo la... La torcia. Via. Riponi. La. E maniamo. Allora. Antidepressivi no. Agoda sutura no. Cotone no. Lecca lecca. Perché non ho portato... Mi sono portato dietro del cibo. È un cretino. Vabbè. Adesso al primo... Al primo... Fast food ci fermiamo ragazzi. Per forza. Vai. Mangiati ancora lecca lecca. Anche se non è... Non è una cena... Una colazione degna di... Di un survival. Cazzo c'è... Ho il burro d'arachidi a casa. Ok. L'importante è... Guarire i morsi della fame. Allora. Qua ci sono delle case qua. Da questo lato. Io quindi... Prima di andarmene con la macchina... Mi fermo un attimo. Per recuperare un po' di cibo. Perché se no... For sale. No. Ok. Vuota. Quando c'è scritto for sale... Vuol dire che è vuota ragazzi. Quindi non c'è niente dentro. Quello c'è una borsa. Tra l'altro. Bello sto quartiere. Ah. Guarda qui. Allora. Io vorrei dare un occhio a questo... Minchia. Questa casa è bellissima. C'è pure il campo fuori. C'è pure il campo fuori. Allora. Quello zombie lì. Magrato. Questa macchina è messa benissimo. Ed è pure nera. Quello è stempiato. Quello è il mio zombie. Stempiato con la canotta. Vai. La. Mi arrivano altri. Minchia. Quanti. Oh. Oh. Ho paura di averceli dietro io sempre. Come ogni volta. Quello è da cos'è attirato? C'è qualcosa dentro la macchina? Venga qui. Ok. Forchetta. Collant. Jeans. No niente. Mappa di Rosewood. Allora. Vorrei entrare. Vorrei entrare. Ci può? Ci può? E lo? E lo? Cibo. Pomodori. Eccolo qua il cibo. Eccolo qua il cibo. Vedi? Eccolo qua. Vai. Siamo stragarichi ma non mi interessa. Sprite. Cetriolini. Che sono sott'olio. Quindi sono mangiabili. La monster. Che bevo. Almeno mi do un po' di energia. Qua cos'è che c'è? Marcio. Ma c'è tutto marcio ovviamente. Perché il tempo è andato avanti. L'empty can. Via. C'è qualcosa di secco. Di confezionato. Pollo. Sciroppo d'acere e miele. È fatta. È fatta. Zucchero. Zucchero. Qui. Niente. Ok. Più che altro sapete cosa sto cercando? Le chiavi di quella macchina lì. Perché sono sicuro che ci siano qua dentro. Allora. La tele. No. Al piano di sopra. Ok. Non c'è niente. Kit. Filo. Calzini. Kit da cucito. Niente. Qui. Vestito lungo. Lo scratch. Niente. Non c'è un gazzo di là. Nulla. Eh. Peccato. Ma forse... La troviamo già nel cruscotto. O nel garage. Qui. Niente. Porco. Porco giù da quanti. Aspetta. Signori. Scusi. Signori. Probabilmente la troviamo. Adesso è uno zombie. Allora. Questa non c'è una minchia. Grambulini è nero. Questa qua era una commerciante. Probabilmente verrà da uno di quei negozi lì. Dunque io c'ho la pistola eh. Volendo. Minchia. Oh. Ehi. Ehi. Pss. Ehi. Testa di K. Bravo. Bravo. Prodi morire subito. Minchia la mazza è... Intrisa di sangue. Per questo squiscia. Non sciotta più. Mi sta scivolando il dito. Andato. C'avete le chiavi voi? Dunque con una macchina come piano B non è male. Forchetta. Questo. Niente. Allora il baule è chiuso ma se io faccio... Ah la macchina era tranquillamente aperta. Va bene. Mettiamoci qua. Dimmi che ci sono. Sì. Sono il cruscotto. Però è completamente andata. È completamente andata. Ed è pure senza benzina. Il motore c'è. È senza benzina. È senza benzina. Beh. Beh. Allora fammi fare una cosa. Fammi solo controllare. Ma perché sei riscesa brutta cretina? Fammi controllare. Cosa c'è nel baule? Niente. Perfetto. Vabbè. Mappa. Acqua 2 ero. Mappa. Mettiamoci. L'asse del pentacolo per dire che c'è una macchina. Vai. A posto. Via. Minchia. O c'è. O c'è. O c'è. Arrivederla. Allora. Devevo andare giù di là. Quindi. Mi giro. E potrei continuare anche di qua. In realtà. Quindi continuiamo di qua. Dovevamo arrivare all'estremo totale. Di Rosewood. Là ci sono altri veicoli. Quindi di qua. Forse salgo. Non so se sto andando verso il carcere. Spero di sì. Allora. Qui c'è un altro svincolo. Proviamo andare di qua. Dio. Bello. C'è compenetrato il. Allora. Qua ci sono i campi. Quindi in realtà. Penso sia giusto. Quindi. I campi. Sulla sinistra. Qui c'è. E questo che è un magazzino. Sulla destra. Quindi. Cioè adesso mi giro così. E do un'occhiettina alla mappa. Penso di. Allora. È giusto. Penso sia giusto al 99%. Ragazzi. Quindi. Campi sulla sinistra. Allora. Qua è Rosewood. Quindi. Questo qua cos'è? Abbiamo Fire Department. No. Construction Site. Allora. No eravamo qui. Questo quartiere qui. Con le inferiate. Aspetta che controllo bene. Ma è Rosewood sta roba? No. Non è Rosewood. Sto controllando eh ragazzi. Rosewood. 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 Spiffo. Allora. Questo è il quartiere. Quindi. Salendo di qua. E andando di qua. Sì. 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 Si va verso il carcere. Perfetto ragazzi. Ci siamo. E infatti. Me li ricordavo i campi. C'era l'unico punto dove c'erano i campi. Quindi adesso sinistra. E andiamo verso il carcere. Là. Ci siamo. E' fatta. Eccolo. Ora quanti. Guarda quanti. Potrei anche vedere che cazzo c'è nella guardiola della guardia. Però minchia. Cioè già. Già il cortile del carcere non promette bene. Allora. Nox prison. Perfetto. Dobbiamo fare un'opera di pulizia. Allora. La macchina della polizia. Pulizia. Polizia. Però minchia sai a conquistarlo il carcere. Che bella. Che bella base che ti fai. Come The Walking Dead. Guarda. Doppi. Doppi cancelli. Faccio un giro del perimetro ragazzi. E' pieno ovviamente. Eccola però. Eccola lorda ragazzi. Volete lorda? Eccovi serviti. Allora. Adesso piano piano. Capisco bene come affrontare la situation. Anche trovare un modo per entrare. Comunque un carcere. Non è facile entrare. Comunque vedete che la situazione è abbastanza difficile. Ok. Facciamoci proprio il giro di tutto il perimetro. Noi conquisteremo il carcere. Questa sarà la mia nuova. La nuova missione di Andreina. La seconda stagione parte con. La stagione del carcere. Facciamo. Allora. Qua siamo dentro la prima cinta muraria. Quindi ho fatto. Facendo il giro. Finiamo qui. Ora. Io non potrò scavalcarle queste. Ecco come ci muore. Ecco come ci muore. Ecco come ci muore. Dio. Non posso ciccare ogni volta. Ogni volta la macchina. È finita vero? Allora no. Di qua ne tiro altri. Ordina. Che è un po' una bestemmia. Gesù. Dove sto andando? No no no. Guarda lì. Guarda lì. Guarda lì. No. Ne tirerò sempre di più. Come minchia faccio? Devo fermarmi. Devo tornare alla macchina ragazzi. Devo trovare il modo. Siamo leggermente fottuti eh. Potrebbe essere la nostra fine. Io. Io. Io ve lo dico eh. Potrebbe essere la nostra fine. No ragazzi. La pistola è pe. C'è pe. Ne tiriamo il triplo. No. C'è già la scommessa ragazzi. C'è già la scommessa. Però ovviamente dovete scommettere prima. È troppo facile scommettere adesso. Voglio godermi il momento. Perché probabilmente. Probabilmente ragazzi. Non ne usciamo. Lo dico sinceramente. Non ne usciamo. Mi sono messo in trappola come un topo. Però. Visto che non è un source like. E c'è la pausa. Devo capire che fare ragazzi. Dovemmo capire che fare. Ovviamente. Chi ha votato contro di me. Non mi aiuti ma. ci sta. Si vede la gocciolina sulla. Comunque vada. Credo in te. Posso dire. Io c'ero. Moriamo gloriosi dai. Sei spacciate. Devi cercare di entrare nella macchina al volo. Il problema è che c'è troppa gente. Dovemmo. Prima di sperderli. Poi dopo. Tornando indietro. Sperando che mi agrino sempre in meno. Cercare di entrare in macchina. Il problema è che prima o poi smetterà di correre. Andreina. Anzi. Più corriamo. Più ci possono venire dei crampi. Cadere a terra. Una volta. Io stavo scappando in un orde. In un orde. Da una mia vecchia partita. Mi è venuto un crampo. Sono caduto a terra. Ovviamente quello che è successo è che mi hanno sbranato. Ed è stata una scena molto brutta. Ma Andreina non farà questa fine ragazzi. Non farà questa fine. Ve lo prometto. Siete pronti? Potrebbe essere l'ultima volta. Anche che vedete Andreina. Siamo pronti. Se soppriamo a questo ragazzi. Via. Allora. Qua ce ne sono pochi. Ce ne sono pochi. Quindi in teoria. Si potrebbe. Tentare di. Disperderli. No. Non ce ne sono un po' minchia. Sono. Sono fottuto. Una tenaglia. È una tenaglia ragazzi. È una tenaglia. Dio. Dendry. Dendry. Su. Mi senti il cuore. Mi senti il cuore. È fatta. È fatta. È fatta. È fatta ragazzi. È fatta. Dai. La macchina. Datemi la macchina. Pensavate. Meno male. Meno male che c'erano le griglie. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ora. Ce li facciamo tutti in retro. Così ripuliamo. Ripuliamo anche la zona. Sparare che c'è un carcerato lì. Merde. Morite. Arrivo. Esci. Esci. Non moriamo mai. Non moriamo mai. Che cazzo era quel. Quel sussulto che ha fatto la macchina. Impanicatissimo Andrina. Adesso prendiamo i beta bloccanti. Perché c'era un panico totale. Completamente in panico totale Andrina. Poverino. Se vi sta la morte in faccia. Via via. Allora dopo dobbiamo controllare bene le guardie carcerarie. Perché probabilmente hanno le chiavi. Della prigione. Quindi dopo ci aspetta un'opera di loot. Incredibile. Che poi potrei anche agrarne altri sparando. Così poi ce li facciamo in retro tutti. Sapete una cosa. Usiamola. E usiamola sta pistola. Dio. Stavo facendo il giro. Stavo facendo il giro. Ma quanti cazzo ce ne sono dentro la prigione. Vai. Guarda. Avete visto uno sparo quanti cazzoni attira ragazzi. Guardate. Due spari. E voi volevate usare la pistola. Senza macchina. Si fa. Si fa. Si fa. Poi dopo ci passeremo tipo mezz'ora per lootare tutto. Madonna mia. Quanti. Guarda lì dentro. Vai vai. Vai. Se riusciamo a ripulire la prigione da soli ragazzi. Tanta roba eh. Il mio sogno qua. Ma quante cazzo di gente c'è lì dentro. Thriller è diventato. Ecco. La città gro. La metropoli grossa ragazzi è tutta così nelle strade. È tutta così. Via via via. Poi la macchina andrà buttata ovviamente. Madonna mia. Impenna. Impenna la macchina. Vai. Morite tutti. Minchia ho rotto il parabrezza. Ho rotto il parabrezza. Ho rotto il parabrezza. Vabbè un po' d'aria in faccia. Poi tra l'altro sapete che l'aria in faccia. Anche senza parabrezza non va arriva l'aria. Perché il muso della macchina fende l'aria e la fa andare verso l'alto. Quindi non arriva l'aria in faccia. Che sono i corpi. Quindi la macchina si ribalta. Andiamo piano allora. Andiamo piano. Andiamo piano di non fare gli incidenti. là questo signori è il mio capolavoro e voi che capolavori potete vantare nella vostra carriera ora lei vita bloccanti che ne prendo subito un po' vai là occhiari, grembiule bianco occhiari, niente questa orologio, ah, altri 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 allora reggiseno, no forbici, no cosa no? dovevo trovare una guardia carcereir che c'era un bordello da trovare qui camicia della polizia eccola qui calcini mappa notata figa allora scatole di munizioni felpa con cappuccio la pistola la prendo che non posso come sempre prendiamo la scatola con le munizioni troveremo mai una guardia carcere dentro sto bordello scarpe da ginnastica auricolari giacca di pelle mutande anello al naso d'oro cravatta camicia formale qua i pezzi i pezzi del nostro parabrezza bracciale d'argento calcini lunghi antidepressivi vai prendili così cocktail di farmaci calcini maglietta per ora non mi sembra di vedere niente ragazzi in ogni caso vediamo se c'è il cibo qua in ogni caso io il cibo qua non me l'ero portato perché sono un cretino ovviamente ma ancora su dai che non ho tempo da perdere con lei io vorrei godermi il mio massacro con una sigaretta tattica sigarettina tattica sul massacro dove sono le sigarette miele chiodi cacciavite ecco vedi a mangiare a fumare a fumare cazzo succede il fumo uccide ragazzi è stato molto furtivo quello zombie tra l'altro dai su anche lei un po' troppi 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 sono tutti quelli che erano di qua tra l'altro che ci deve essere un collegamento tra quella che mi agrano macchina ma sì questo fa il giro questo cretino i runner quelli sono quelli di daylight i runner vero che correvano in mezzo ai palazzi gli zombie aspetta prendo la macchina è l'unica può magari romperò anche il vetro dietro fra un po' l'unotto dietro la ora prima invece di invece di perdere tempo a fumare e questo è un invito a tutti a non fumare dopo questa scena che avete visto miele nastro adesivo dove minchia sono le sigarette qua beh fuma e apri zuppa e scatola ci mangiamo una zuppetta qui siamo a posto vai apri là a posto bevi è vero perché si beve si bevono le zuppe che schifo mentre pure sto mangiando mi dovete rompere allora ho bevuto tutto yes non c'ho più fame la lattina vuota non so dove minchia l'abbia messa ma non mi importa ora allora siamo stanchi pesanti baratolo di latta vuoto è quello qui che lo metto nel cruscotto che tra l'altro c'è un botto di roba anche qui siamo abbastanza pesanti quindi io direi che tutto quello che non ci serve di metterlo un attimo via beta bloccanti pure caramella lamenta pure antidepressivi pure ascendino pure a posto siamo più pesanti andiamo a farci un giro andiamo a farci un giro qua c'è ancora gente ne sono sicuro qua dove cazzo vai qua li sento ecco infatti porco giuda che infarto che mi è venuto dai dai muori la è fatta la signorina la signorina aspetta ok qui ancora minchia è pieno qua è saldata la porta qui pure venga questa è pelata che è che è successo alla signorina pelata qui vabbè ve lo in chi è pieno ma l'inesi no ma morso ma morso ragazzi ma morso cazzo non pensavo fossi dietro l'angolo ma morso ma morso 100% no 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 non può finire così fermi tutti ma morso però potrebbero aver penetrato dipende tutto dipende tutto da dalla nostra difesa ragazzi ragazzi eccoci eccoci ho sentito il crunch ho sentito il crunch mi sa che ci siamo mi sa che ci siamo non ho avuto riflessi pronti Andreina vediamo eh sì in testa c'ha morso minchia non possiamo manco decapitarci è fatta ragazzi è fatta però non finirà finchè non muore ovviamente Andreina vabbè io mi fascio ma è inutile ragazzi lo sapete che è inutile c'ha morso in testa minchia morsino in testa è inesorabile è inesorabile cazzo se guarda l'avevo pure visto l'avevo pure visto dentro di me prima ho detto me lo metto il casco da operaio se ci fossi ho messo messi questo ragazzi non ci avrebbe morso avete visto le piccole cose e niente ragazzi è completamente finita ci restano due giorni ci restano due giorni che giocheremo che giocheremo tranquillamente ma Andreina lo sapevamo che era destinata a morire ma adesso sappiamo abbiamo la data di schadenza con un morsio in testa non ci credo ragazzi non ci credo perché ho premuto control quel mezzo secondo più tardi non ho fatto in tempo a levarmelo è un peccato è un peccato è un peccato però c'è una piccola cosa allora dobbiamo fare dobbiamo parlarci chiaro ragazzi è finita cioè è finita potrei ci c'è esiste il vaccino per gli zombie ma è completamente fuori portata non abbiamo tempo non abbiamo tempo di raggiungerlo potremmo provarci ma vi dico che è impossibile è impossibile potremmo provarci ma è impossibile perché bisogna fare un giro fottuto per arrivare dov'è ma non so se riusciremo a curarci le cose sono due o proviamo a raggiungere il vaccino però non ce la faremo mai ve lo dico o moriremo combattendo prendiamo la mazza andiamo in mezzo in mezzo a un'orda e facciamo morire Andrina combattendo decidete voi non so se Daxin può far partire un sondaggio non so se non lo può far partire quindi suicidi onorevole o tutto per tutto cerchiamo di raggiungere il vaccino però il problema è che per raggiungere il vaccino bisogna arrivare nella base militare c'è un pezzo del puzzle per raggiungere il vaccino il vaccino è in città nella città grossa in 3-4 giorni che è il decorso dell'infezione non ce la facciamo bisogna trovare delle password che aprono un cavo che è nell'azienda farmaceutica della città se non mi ricordo male che è giù nelle basi militari c'è un codice gli altri codici sono in altri punti che mi ricordo però per raggiungerli tutti non ce la faremo mai si apre il cavo in basso e ci si può sparare il vaccino nel cuore e guarisci però non penso di farcela quindi potremmo anche ammazzarci con la candeggina prendere la candeggina la tiriamo giù in macchina sigarettina e andrina se ne va quindi decidete voi moriamo con un'ora ci aspetta la morte davvero cazzo di leggenda così in macchina per poi dopo minchia poverina poi vi ricordo che il decorso della malattia è molto aggressivo non sarà al 100% andrina avrà male alle ossa avrà la febbre gli ultimi giorni non riuscirà a camminare quindi è un po' infattibile la ferita non si rimaginerà mai cazzo c'è morso in testa ragazzi io vi giuro su dio che a quando ho aperto quel cruscotto per mettere via la lattina l'ho visto quel casco d'operaio dentro di me ho detto dovrei metterlo perché c'era qualcosa che mi diceva c'era qualcosa che mi diceva difenditi minchia se l'avessi messo quel cazzo di casco d'operaio 100% di difesa dai morsi non ci avrebbe morso ha vinto il vaccino proviamoci ragazzi proviamoci allora quindi dobbiamo andare alla base militare come prima cosa che siamo qui vicini via tutto per tutto è l'unica ragazzi la macchina è mezza pure distrutta io vorrei fare un attimo una cosa aspetta chiamiamo un attimo i capelli fagli a ciambella vai almeno vediamo bene la ferita che poi è inutile dovrei anche disinfettarle in realtà però ci sono gli zombie adesso nel momento appena appena sono al sicuro me la disinfetto pur che poi in realtà è inutile stiamo su disinfettando l'inutilità avete visto che si è infettata in 0-2 porco giuda manca il tempo di guardarla antidepressiva il whisky non ce l'ho bene la macchina sta pure tirando le cuoia bene se si si ferma la macchina ragazzi non ce la faremo proprio a raggiungere il bacino e no vabbè ragazzi tanto è inutile disinfettarla che cazzo ci si mettiamo a fare che cazzo ci si mettiamo a fare già infetta allora acqua acqua cazzo Andreina sei stata sei stata sei stata una parte importante della vita di tutti ma cercheremo di non farti morire in vano cercheremo di non farti morire in van Andreina sei tranquilla base militare subito figa quel cazzo di morso spero ci sia la clip del morso fatidico porco giuda in fronte c'ha morso il cretino poi sapete che il gioco è talmente realistico che forse sono un cretino scusate un cretino ecco era la versione POV e sapete che il gioco è talmente realistico che che in testa ci dura meno l'infezione tipo la rabbia vabbè ragazzi non si è visto niente di che io che andavo in macchina in giro il gioco è talmente realistico ragazzi che forse anche in testa spiego con la macchina spenta perché se no speriamo tempo prezioso per raggiungere il vaccino con la morso in testa forse abbiamo meno giorni perché ovviamente il virus arriva prima al cervello sì 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 ho fatto ho fatto nuovo format ragazzi dove si vede solo la facecam scusate ma io l'ho premuto il tasto lo stream deck non ha funzionato devo premerlo più forte allora devo fare un attimo di mente locale ehm accelera eh ragazzi ma lo sapete che è impossibile io comunque ci provo ci provo anzi ve lo potrei far vedere anche a voi in realtà ve lo faccio vedere anche a voi dai almeno mettiamo anche un po' di pepe a sta live eeeh chrome andiamo su eeeh google facciamo potrei che faccio schermo intero zomboid map allora noi siamo qui questo è il carcere noi siamo qui quindi per arrivare alla base militare che è qui minchia ragazzi qua e qua c'è il pezzo di un pezzo di un puzzle poi doveva mandare tipo non mi ricordo dove in qualche altro ufficio vedere i nomi sapete che non mi ricordo cioè io con tutto il bene non so non mi ricordo neanche precisamente dove è cioè so che so che è nella città ma non mi ricordo manco dove sono i punti però se non sbaglio qua da qualche parte ci deve essere tipo un ospedale gigante o forse addirittura nella base militare velvet pump shop forse questo forse no questo qua è il centro d'accoglienza dei militari bachelor shop no comunque vabbè noi comunque dobbiamo arrivare al al coso ragazzi alla base militare qua quella il trailer park dove eravamo prima base militare small gas station qui non qui qui completamente vuoto non c'è niente qua cosa c'è niente forse qua c'era tra l'altro c'era pure il campo da golf da qualche parte sapete qua forse il campo da golf questo ma noi per ora dobbiamo arrivare qui e siamo qui quindi dobbiamo andare verso nord quindi usciamo da qui andiamo giù per la strada costeggiamo i campi di fattorie giriamo a questa qua di qua arriviamo costeggiamo il construction site e percorriamo tutta sta sterrata senza mai girare percorriamo percorriamo arriviamo qui e poi si va dritti dritti verso nord una volta arrivati verso nord ci sarà questo vicolo cieco andiamo per la sterrata e dovremmo comparire alla base militare vai ho sbagliato vai proviamoci ragazzi aspetta che metto la chat come al solito non dura la macchina anche secondo me anche secondo me anche secondo me però siamo morti per morti proviamoci proviamoci sì la macchina per me se ne va all'aceto sono d'accordo allora ci sarebbe l'altra macchina lì alle case però anche lì dovremmo far benzina spericheremo tempo dovremmo anche dormire prima o poi perché non possiamo andare fumatina tanto siamo morti fumatina mentre guidiamo vai allora quindi costeggiare i campi arrivare fino a giù poi girare verso sinistra bene bene cominciamo a tirare le botte alla macchina che già è rotta si è rotto qualcosa? no facciatura sporca ok adesso me la cambio con calma guarda sto già sto già iniziando a impazzire forse allora rimuovi benda vai fasciatura se ci avesse se ci avesse morso qui potremmo provare cioè ci potevamo tagliare la mano ragazzi si poteva provare a sopravvivere però figa in testa eb cazzo peccato peccato che il primo episodio della seconda stagione Andreina muore allora dove siamo? siamo qui ok a posto vai accelera però deve succedere un po' ragazzi deve succedere del resto questa è la storia di come siamo morti lo dice il gioco all'inizio però noi volendo potremmo continuare la partita in questa mappa con un altro personaggio andare a uccidere lo zombie di Andreina se ci zombificheremo quindi magari ci sarà una seconda serie che porterò fra due anni che la chiameremo Killing Andreina tra l'altro siamo pure finendo la no la benzina è ancora piena perché F vuol dire F di pieno ricordatevelo allora siamo yes siamo yes però non so non so manco se è quella giusta in realtà lo svincolo construction site no ho sbagliato mi sa perché dobbiamo costeggiare il construction site quindi torniamo indietro ho sbagliato ragazzi quindi dobbiamo trovare il construction site che se non sbaglio è là sotto quindi dobbiamo andare alla prossima Dio stai imbarcando la macchina allora credo almeno aspetta vediamo minchia mi sto incasinando vediamo è l'unica per farla veloce andare con la mappa 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 allora noi siamo sono sceso per di qua giusto sono sceso per di qua l'abbiamo superato secondo voi il construction site credo almeno di esserci sopra di qua dove minchia siamo dove siamo secondo voi ragazzi la situazione ma la situazione se la macchina si imbarca o la barca si immacchina dipende da cosa è nato prima siamo morti quello si allora in realtà è facile è semplice i campi construction site e percorrere construction site quindi in teoria secondo me eravano giusti eravamo completamente eravano giusti secondo me ero giusto e allora torniamo indietro c'è una macchina lì attenzione però ormai moriremo con lei l'abbiamo trovata nei primi episodi moriremo qua dentro grazie grazie dunque tu sia per la sabbe construction site si è questo ok noi continuiamo di qua minchia e mo e mo che bastardi che siete sviluppatori non sopravviveranno le sospensioni salteranno le go sapete cosa vuol dire questo ragazzi che fermiamo la macchina dormiamo dormiamo tra l'altro senza parabrezza senza niente ma tanto ormai chi cazzo se ne frega siamo morti allora dormi andrei vai non è sicuro dormire qui infatti è pieno di zombie allora facciamoci la nostra classica canonica retro comunque incredibile adesso che ci penso veramente siamo sopravvissuti a un'orda della madonna uno zombie di merda dietro un angolo ci morde ed è finito tutto ci vedete conto road tu vaccino tutti muoiono ragazzi tutti muoiono bisogna accettarlo anche voi morirete la differenza sta sempre nel come e cerchiamo di far morire andreina in un modo sensato più che altro allora vai dormi pennighella minchia li sento svegliate andrei li sento oh porco giuda questa dormiva con gli zombie qua mentre dormiva con gli zombie qua sullo specchietto vabbè risveglio risveglio perfetto direi fumiamo facciatura sporca eh lo so rimuoviamola io prenderei anche degli antidolorifici così nel dubbio che almeno magari ci passa un po' il dolore bisturi apriscatole antidepressivi antidolorifici prendi pillole ma anche anche gli antibiotici vai no antidepressivi prendiamo anche un po' di antibiotici facciamo un mix di un cocktail di farmaci che ci sciotta ok e mettiamo i cerotti che è successo alla macchina la sapete cosa vuol dire ragazzi adesso che c'è sta cosa qui che devo andare a piedi andare a piedi eh mi spiace Andreina mi spiace mi spiace averti ridotto così eh lo so che fa male fa male ehi tu perché faccio fatto ehi tu volevo mettere via la mazza bisogna andarsene farsela a piedi ragazzi però non ci arrenderemo perché quello che conta è andare avanti è l'unica ragazzi non potevo passare quella macchina lì quindi voi avete votato per andare andare a cercare il vaccino io continuerò la serie finché Andreina proprio non morirà finché non verrà con la scritta sei morto quindi sta a voi scegliere allora faccio una cosa prima di andare a piedi la candeggina ce la portiamo dietro così al massimo nel dubbio possiamo ucciderci in modo rapido che dite metti metti che comunque sono in una situazione disperata ragazzi ci sta morto che cammina andrina morta si andrina morta che cammina nel dubbio nel dubbio ci facciamo uno shot di candeggina ci traccaniamo 50.000 sonniferi perché il gioco è talmente fatto bene che ci si può anche ammazzare vai candeggina mettitela nella borsa là via ci va a piedi è l'unica ragazzi perché non ci passa la macchina rischiamo di sfondarla ancora di più metti che riusciamo a trovare il vaccino perché potrei sbagliarmi e potrebbe anche essere dentro la base militare però sta cosa dei codici me la ricordo che ci volevano tipo tre robe per 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 aprire per aprire qualcosa la pistola con la pistola non so se si può fare forse come una mod altra qui la pistola la ricarico prima ho tirato due colpi vai farcela a piedi ce la farò mai ragazzi ce la faremo mai tra l'altro che ore sono sono già le 11 allora la prima la prima casa che trovo mi fermo e continuiamo la prossima volta salve fammi vedere un attimo una cosa quanti zombie ho ucciso Andreina prima di 172 madonna che macchina da guerra che c'è stata Andreina sarei morti che camminano top ricordi però vabbè non è ancora non è ancora falla finita falla finita dicono la strage degli innocenti quasi drive in beh innocenti mica tanto sono zombie abbiamo il drive in ci fermiamo al drive in allora la serie non smetterà ragazzi avete scelto avete scelto di andare a provare a prendere il vaccino comunque noi 5 giorni prima di morire ce li faremo ce li facciamo anche con Andreina prima che l'infezione la sciotti la uccidi però c'è è matematicamente finita ah guarda è talmente stanca che non ce la fa manco a scavalcare ok adesso si la nau è stomacata iniziano i primi sintomi ragazzi ce l'ha già la nau i primi sintomi della zombificazione carcere maledetto allora il drive in ci avrà un posto al chiuso in realtà no perché è un drive in era aperto quindi dove cazzo mi fico poi potrei anche chiuderla qui e ripartire da globetrotter la prossima volta guarda qua guarda qua ce n'è uno lì occhio allora minchia è pieno però è pieno come sempre è pieno maledetta macchina che ci ha abbandonato sul più bello che poi in realtà non è stata colpa della macchina ma è stata colpa dell'ingorgo minchia come cazzo la faccio a farmela qui a piedi la propurebbe sboccare allora penso di averla fatta giusta vediamo per levarci il dubbio scappo da sti zombie allora construction site drive in ok adesso siamo qui quindi dobbiamo andare verso su verso su e poi dopo indifferente da che parte andiamo la strada di qua e dobbiamo andare verso nord invocare la strada verso nord e andare qui allora noi quindi da qui andare su mi libero dagli zombie mi metto mi metto al sicuro e continueremo road to vaccino allora non succede ma se sopravviviamo a questo ragazzi diventa oggettivamente la miglior run d'italia pochi cazzi pochi cazzi beh andrei su affaticata dolore leggero e vabbè stomacata sbocchino sbocchino tattico ci sarà magari una roba sulla pistola con tipo con il testo tipo falla finita tipo sbank sarebbe figo come meccanica così eviti anche di zombificarti se ti spari in testa perché la cosa bella delle partite quando le perdi se vuoi l'aria perché il salvataggio vi rimane col permadet voi se ricaricate quella parita vedete il vostro zombie che se ne va in giro quindi un giorno se non avete un cazzo da fare ricaricate una vostra vecchia parita potete vedere che cazzo fa il vostro personaggio zombie da zombie bellissima sta cosa comunque qua non ci sono case non c'è un cazzo io direi di andare di andare di imboccare la strada giusta e di chiudere lì però ragazzi c'è la vedo dura è praticamente praticamente è praticamente andata però la faremo morire bene Andreina ripeto deve morire bene non ci cioè non ci sto che uno zombie di merda dietro un angolo l'abbiamo morsa cazzo allora la c'è roba comunque minchia guarda qui adesso adesso che sono morta proprio non conta proprio un cazzo brutto dio allora questa casa qui non sarebbe male come rifugio però prima devo liberarmi dal corpo di ballo di thriller che mi segue allora chiuso apri apri su tre ore cazzi finestrae vabbè è chiusa ho ben capito che è tutti qua nervitesi eh lo so niente non posso fermarmi manco qui vaffanculo cade pure sta cretina non corre non corre non corre non corre è troppo stanca non corre guarda guarda che scena abberrante mamma mia che lenta che è dai su madò vorrei che con questa stanchezza me lo stai dicendo andrei eh un altro morsio vai è troppo lenta ragazzi non ce la faccio sto iniziando a sentire gli effetti dell'influenza mi sa senza forza eh lo so che sono senza forza ah non mi ha stavolta non mi ha morso vaffanculo non poteva non poteva non farmelo prima stavolta è riuscito ah i vestiti mi hanno protetto vai stracci là ce la fa più poveraccio ce la fa più allora rimaniamo così domenica prossima probabilmente ci sarà prison void rotto vaccino però ragazzi potrebbe essere tipo l'eutanasia è un discorso anche molto caldo perché per chi lo sa per quanto riguarda l'eutanasia è animale è anche successo recentemente però ve la rifaccio ancora la domanda la prossima volta volete che rifacciamo un progetto zomboid e corriamo verso il vaccino o volete farla finita qui la facciamo finire di soffrire adesso Andrina perché comunque è una vita gli aspettano dolori immensi e roba incredibile vedete voi ragazzi io continuo a farvele la domanda scegliete voi la facciamo morire adesso o domenica prossima ricominciamo qui e cerchiamo di salvarla no altro personaggio no ragazzi una volta che muore Andrina basta e lavora su Real Night è così poi dopo riporteremo altro potrebbe anche starci la butto lì potremmo anche fare una live su Bloodborne una tantum visto che comunque Bloodborne è una serie lunga magari prenderà un botto di tempo su Youtube magari facciamo una live su Bloodborne e la butto su Youtube come parte parte là poi vediamo l'eutanasia ragazzi vediamo chi sceglie se no domenica vediamo ragazzi magari domenica partiamo qualcos'altro domenica non so iniziamo qualcos'altro ci saranno sicuramente altri giochi da iniziare anche qualcosina sulla Switch tipo Disworld Online che ce l'ho sulla Switch altri Survival qualche potremmo anche riportare per qualche live lo Zoo visto che mi piaceva mi oppongo Andrina deve vivere vabbè adesso appena finisce vedo che fare falla finita ha vinto falla finita la volete morta Andreina veramente la volete morta qui quindi posso scegliere posso scegliere come ucciderla eh ragazzi la democrazia ha scelto quindi adesso il modo è ovviamente sbranata è brutto sbranata è brutto è una morte brutta o beviamo la candeggina o vediamo se possiamo sparare in testa pregate ragazzi pregate smette di soffrire oppure ci apriamo la benda e ci facciamo morire di sanguati vediamo rimuovi benda via alla Rambo però non sanguina più la benda purtroppo quindi non può manco morire di sanguati però forse la ferita si riapre vediamoci la vita in realtà mi cala la vita mi cala quindi facciamo una cosa guardate io zitto zitto mi metto mi metto qua mi metto qua mi scedo sul pavimento salutatela che non la vedrete più salutatela è orribile sta cosa perché devo farla però avete scelto allora la ferita si sta rimaginando allora gli facciamo fare l'ultima sigaretta della sigaretta del condannato vai andrei cazzo non c'è più mi è caduto l'accendino poveria poveraccia non può manco fare l'ultima sigaretta da quando vabbè vabbè scusa io sono caduta qui prima andiamo a vedere se riesco a trovarlo che poveraccia l'ultima sigaretta se la merita sono caduto qua forse è di là no è pieno di zombie non voglio farla morire sbranata qui forse guardate come sta prendendo sangue nel mentre lo vedete c'è la ferita aperta intanto la vita sta scendendo cazzo volevo farle fare l'ultima l'ultima sigarettina però neanche questa può fare poveraccia vabbè tanto la morte la morte la morte ragazzi non ha significato è inutile trovarlo è inutile trovarlo no però dagli zombie no dagli zombie no con gli zombie no con gli zombie no potete che la bendo che deve morire bene Andreina mi rifiuto di farla morire alla cazzo però mi sa che muore con gli zombie sapete perché li abbiamo attirati per quella cazza di sigaretta di merda devo capire che fa allora dai levati la benda di nuovo vai muori muori di sanguata mentre ti ti rincorono ragazzi va così va così e il destino ha deciso che morirà combattendo vai vai è niente è niente è niente è andata ragazzi è andata è sopravvissuta 23 cazzo il 23 23 c'è sempre 23 è guarda guardate la vedete zombificata Andreina siamo sopravvissuti però 23 giorni è quasi un mese Andreina zombie e niente ragazzi avete scelto per l'eutanasia volevo fare un'eutanasia un po' bella con la sigarettina e zombificate con la sigarettina e le cose però il destino ha parlato così noi adesso se facessimo un nuovo personaggio potremmo raggiungere l'Andreina e ucciderla e prendere la roba che ha addosso ma è andata così ragazzi avete scelto di farla finita e niente mi sono quasi mi sto commuovendo non so voi ma sono quasi commosso sono quasi commosso da questa cosa ma non andatevene perché a parte il fatto che vi ricordo che 1850 ritorna Sor Matilda dovremmo decidere che fare domenica perché adesso io Project Zomboid l'ho riprovato perché non c'era un cazzo da fare adesso è finito di nuovo Project Zomboid ho 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 ho